ciao ciao a tutti bentornati sul mio canale youtube è un po di tempo che non realizzo un video e ho deciso di tornare alla ribalta con un tutorial sulle lettere in tante mi avete chiesto appunto la continuazione dell'alfabeto e quindi oggi realizzeremo insieme la lettera c allora ci serviranno come sempre dei cipollotti o sto utilizzando questi che sono due per tre millimetri delle rocaio 11 0 e delle rocaio 15 0 io sto utilizzando le pf 557 del lato io utilizzo un ago numero 12 della pony e come filo uno 0 20 monofilamento perché da una consistenza maggiore al lavoro la lettera c in realtà è molto molto semplice perché è un derivato della a della b e saranno un derivato di queste lettere anche le altre che realizzeremo in seguito soltanto alcune sono un po più complicate da realizzare però comunque io vi farò vedere passo a passo come realizzarle bisogna avere un po di pazienza però perché è estate fa molto caldo e diciamo che ho meno tempo per realizzare video infatti manco su youtube da qualche settimana però comunque appena possibile vi prometto che continuerò a realizzare i tutorial come promesso allora inizio con la mia solita sequenza di quattro perline e la porto alla fine del filo utilizzo questo colore che è veramente bellissimo e rientro nel primo cipollotto eccolo qui tiro il filo e creo come sempre il nostro primo modulino eccolo ripasso all'interno della sequenza ecco qui come vedete il filo che fuoriesce da questo cipollotto qui ho inserito altri tre cipollotti sul lago e rientro nella stessa nello stesso cipollotto ma dal verso opposto per continuare appunto a creare la nostra sequenza di perline dobbiamo creare come sempre una striscia composta da sei moduli quindi questo è il secondo poi ripasso come sempre all'interno di tutta la sequenza e infine riporto il filo che fuoriesce da questo cipollotto qui dobbiamo ripetere questa sequenza altre quattro volte quindi prendo altri tre cipollotti sul lago eccoli qui e rientro nuovamente nella sequenza dopo aver creato una sequenza composta da sei moduli quindi adesso ne ho tre bisognerà crearne altri tre ci vediamo e vi spiegherò appunto come procedere ecco qui come vedete ho realizzato appunto la prima striscetta composta da sei moduli ro ho il filo che fuoriesce da questo cipollotto qui è indifferente il lato perché poi potremo ruotare la lavorazione faccio vedere in maniera ecco qua adesso in pratica quindi il filo non fuoriesce più da questo cipollotto qui ma da questo laterale prendo tre cipollotti sul lago e rientro dal basso verso l'alto all'interno dello stesso cipollotto in modo da creare quindi un modulo laterale esattamente in questo modo ora vado a ripassare il filo all'interno della sequenza ecco qui e riporto il filo che fuoriesce da questo cipollotto qui dobbiamo creare altri due moduli uguali a quelli che abbiamo appena uguale a quello che abbiamo appena creato quindi ci vediamo quando abbiamo finito ecco qua come vedete appunto ho terminato di creare questa zona qui adesso devo ripetere la stessa identica sequenza di moduli anche partendo da questo cipollotto qui come vedete appunto da questo e da questo per creare la nostra C quindi io ripasso il filo all'interno di tutta la sequenza di perline ecco qua in pratica devo portare il filo che fuoriesce da questo cipollotto qui che è il cipollotto interno dell'ultimo modulo che abbiamo creato quindi procedo ecco qua quindi ho il filo che fuoriesce da questo cipollotto qui inserisco tre cipollotti sul lago ho il filo che fuoriesce verso il basso e rientro dall'alto verso il basso all'interno della sequenza ecco qua rientro all'interno di tutta la sequenza di perline dopodiché vado a creare altri due moduli come abbiamo fatto appunto per la parte superiore della C lo faremo anche per la parte inferiore quindi ripasso all'interno di tutta la sequenza poi porto il filo che fuoriesce da questo cipollotto qui inserisco altri tre cipollotti ripasso di nuovo il filo porto sempre il filo che fuoriesce dal cipollotto esterno e creo poi l'ultimo modulo ci vediamo quando abbiamo finito allora questo è lo scheletro della C come vedete ho il filo che fuoriesce da questo cipollotto qui vado a prendere una 11.0 sul lago e rientro nel cipollotto successivo questa è l'unica 11.0 che andremo a inserire perché poi all'interno inseriremo tutte 15.0 tranne in questo posto qui in cui inseriremo una 11.0 come ho appena fatto quindi prendo una 15.0 e rientro nel cipollotto successivo e continuo in questo modo ecco qua inserito le 15.0 all'interno prendo una 11.0 e rientro nel cipollotto successivo e adesso facciamo il giro esterno tutto con le 11.0 quindi procedo in questo modo e ci vediamo quando ho finito ecco qui la nostra C è terminata come vedete è veramente carinissima ed è semplicissima da realizzare perché è un pezzo della nostra B quindi questa è la C io spero che questo video vi sia stato d'aiuto come sempre potete aggiungere un cappietto qui su come è fatto per la A se non sapete come fare vi rimando al video della A che vi linkerò nel box informazioni e in alto qui nel video io vi ringrazio tantissimo per la visione come sempre condividete il video se vi è piaciuto mi aiuterete a crescere e a continuare a realizzare tutorial gratuiti e niente ci vediamo presto un bacione alla prossima ciao 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 ciao